Buonasera a tutti, siamo con Antonio Rota che ci dirà due parole sull'incanto delle stanghe di San Nicola. Buonasera a tutti, questa sera grande evento per la festa di San Nicola, quando il santo cade in domenica, quindi vuol dire che il 10 settembre è domenica, è prevista la processione per le vie della contrada del santo e il giorno precedente, la sera precedente c'è l'incanto delle stanghe. In cosa consiste l'incanto? L'incanto è semplicemente un'asta per aggiudicarsi una delle quattro posizioni per portare il santo, è una tradizione secolare, molto affezionati a questa tradizione sono gli abitanti della contrada e questa sera vedremo l'evento in diretta e avrete modo di vedere come avverrà l'asta, l'assegnazione delle quattro posizioni. Buona serata a tutti, vi aspettiamo. Grazie per la vostra numerosissima presenza alla nostra festa, questo grazie vale per voi che siete qui questa sera, ma anche per quelli che hanno già partecipato nelle sere precedenti e siamo certi saranno presenti anche nella serata specialissima di domani. Ecco, il momento che stiamo vivendo adesso è un momento caratteristico della festa di San Nicola, molto caratteristico in quanto avviene soltanto quando la festa di San Nicola cade di domenica come quest'anno. Quindi si sarà poi domani pomeriggio la processione, alle ore 17 la messa e poi la processione. Per la processione c'è la statua di San Nicola che attende di essere accompagnata, cioè di essere portata. Pertanto è veramente un onore, un momento molto bello quello di assumere questo servizio, questo impegno di portare la statua di San Nicola. Allora le stanghe, le quattro stanghe, diciamo, sono messe questa sera all'asta e chi offre di più avrà l'opportunità di portare appunto la statua di San Nicola. Domani sera a questa messa delle ore 17 sarà presente Don Gianangelo Morelli, già parroco di Almenno San Salvatore un po' di anni fa, un giovane novantenne che domani sera sarà qui a celebrare la messa e poi accompagnerà la processione. Quindi anche questo è un momento molto bello e significativo. Ecco, grazie di nuovo a voi, lascio adesso la parola a Germano per iniziare il momento dell'incanto delle stanghe. Un applauso a Don Mario. Però dovremmo chiedervi un favore, quando partiamo con le stanghe dobbiamo avere molto molto silenzio. per poter sentire l'offerta del compratore della stanga. Automaticamente, quando mi daranno l'ok, io parto. Allora, Antonio, posso partire? Parto? Allora, attenzione, attenzione, si parte per la prima stanga. La prima stanga, la prima stanga si parte con l'offerta, la prima offerta si parte con 500 euro. Avanti per la prima stanga. Chi ha intenzione di comprare la prima stanga, in con l'offerta? Chi vuole alzare la stanga? Chi vuole alzare la stanga? Chi vuole alzare? Due? Uno, cinque? Cinque? Due? 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 Chi offre di più per la prima stanga? Chi ho la stanga? Quattro, 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 quattro. Avanti! Chi offre di più? sentiamo il caso dovete far silenzio un attimo che è una cosa molto importante e anche entusiasmante allora siamo arrivati a 4 e 5 per la prima stanga c'è qualcuno che alza la cifra per la prima stanga siamo a 4 e 5 siamo arrivati a 4 e 5 c'è qualcuno che vuole alzare la lala il presto della prima stanga non vedo nessun segno cosa facciamo 5, 5, 5 5 siamo ancora alla prima stanga siamo arrivati a 5 chi offre di più poi chiudiamo la prima stanga siamo a 5 chi ha 6 presso un attimo e poi chiudiamo 5, 5 5, 5 la prima stanga a questo punto direi di chiudere per la prima stanga allora dobbiamo incominciare a dare l'ok per l'acquisto della prima stanga vieni Carlo allora per la prima stanga 5, 5 aspetta no allora per la prima stanga 5 per la prima stanga 5,5 e 1 5,5 a 2 5,5 a 3 la prima stanga è stata giudicata ai signori rota un applauso veramente chi alza la mano partiamo per la seconda stanga 3 concorrenti grazie di me partiamo da 500 euro si parte da 500 ancora a 500 euro 1000 euro 1000 euro ancora altri 1000 e 2 1000 e 2 1000 e 5 1000 e 5 1000 e 5 altri che asserano la mano 1000 e 5 2 2 2 2 siamo a 2000 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 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 e 2 chi offre di più? chi offre di più di 5 e 2? chi alza la cifra? 5 e 3 5 e 3 che serata altro che canale 5 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 chi offre 5 e 5 altrimenti chiudiamo a 5 e 4 c'è qualcuno che alza la mano a 5 e 5? 5 e 5 5 e 5 straordinario io direi di chiudere la seconda stanga chi chiude la seconda stanga a 5 e 5 5 e 5 a 3 5 e 5 a 2 attenzione 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 su un rialzo forza però non riesco a capire la mano 5 e 6 5 e 6 5 e 6 5 e 6 5 e 6 5 e 7 5,7 io direi di chiudere 5,7 5,7,1 5,7,2 5,7, attenzione 5,8 5,8 5,8 5,8,1 5,8,2 5,8 e 3, aggiudicata la seconda stanga 5,8 Rota Antonio e adesso si parte per la terza stanga si parte per la terza stanga si parte ancora da 500 500 1,000 1,000 chi offre di più? 1,200 1,200 1,500 1,500 la terza stanga 2,000 sempre la seconda la terza stanga 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 attenzione chi offre di più di 2,500 2,500 2,500 che offre di più? 2,800 28 28 28 28 chi offre di più di 28 attenzione chi offre di più 2008 2008 2008 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 attenzione solo a san nicola succedono queste bellissime cose 3.500 chi offre di più 3.600 3.600 3.600 4.000 io direi se non c'è altri concorrenti io direi di chiudere 4.000 4.000 e 1 4.000 e 2 4.000 5.000 5.000 5.000 quasi incredibile 5.000 5.000 ma ci pensate e in più devono far fatica a portare il san nicola 5.000 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 è stata giudicata la famiglia Gotti io penso anche di fare un pensiero a Carlo che era uno dei primi a poter a voler portare San Nicola io direi veramente un applauso alla famiglia Gotti anche alla famiglia Rota come ho detto prima che sono nati proprio davanti a San Nicola nel ricordo del papà Angelo è la mamma di sicuro che sono il paradiso e adesso è il gara per la quarta per la quarta stanga si parte sempre da 500 500 500 chi offre di più? 1000 1000 1000 12 12 chi offre di più? 12 12 1500 1500 1500 1500 1500 che offre il 1700 che offre il 1700 2000 2000 2000 abbiamo abbiamo Don Marco da Van Goglio che ci sta seguendo a questa asta eh 2000 2002 2002 che offre di più di 2002 25 ragazzi è una cosa incredibile 2005 io rilancio ancora eh rilancio 2007 2007 che offre di più di 2007 3 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30000 e due chi offre il 30000 e due altrimenti mi devo fermare a 3000 chi offre il 30000 e due tutto fermo? tutto fermo? tutto fermo? chi offre di più il 30000 e due? 3100 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 cominciò a fare a decidere 3100 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 ha giudicata la quarta alla famiglia Rota con grazie mille anche la famiglia Rota di San Nicola anche qui nel ricordo dei genitori assolutamente che avevano la tradizione già 50 anni fa di questa storia e i figli e i nipoti stanno continuando. Adesso partiamo con la tombola perché i tempi si sono allungati. che hanno in diversi modi collaborato e lavorato per questa, per rendere possibile e con la servizia che stiamo vivendo e con la servizia che stiamo vivendo e mergono veramente un ringraziamento come ti ha preparato i Nicolini per tante persone che naturalmente operano e lavorano in questa occasione, o c'è chi lavora naturalmente là sotto il tendone per quello magari avremo modo di parlare questa sera. quindi grazie a tutti, grazie al corpo bandistico che adesso ci accompagnerà nella processione. allora con ogni processione è aperta naturalmente dalla croce, ecco i confratelli apriranno la processione portando la croce, poi dietro a loro seguiremo noi su due file a due a due, cercando di essere abbastanza ordinati e di soprattutto non creare dei vuoti, cercando di mantenersi compatti e uniti per rendere più bella e significativo il nostro cammino. lungo la processione ci accompagnerà naturalmente il nostro corpo bandistico con dei momenti musicali e altri momenti saranno invece segnati dalla nostra preghiera e dal canto. quindi la processione non è una parata, la processione è un cammino di fede e quella fede che noi viviamo personalmente e come giustamente ci diceva Don Gianandolo prima, però non è una cosa nostra privata, è qualcosa che siamo chiamati a condividere. camminare, soprattutto se poi accompagnati dalla statua di un santo come San Nicola, vuol dire impegnarci a portare questa fede, come ha fatto San Nicola, dentro la nostra vita di ogni giorno. ecco viviamo quindi questo momento proprio con molto raccontimento e devozione. ecco viviamo ecco viviamo ecco viviamo Grazie. 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 Grazie.